A Francavilla, vicino a chiudere la partita al primo turno, è stata la candidata del centro-sinistra Luisa Russo che sfiderà Roberto Angelucci nel ballottaggio. Roberto Angelucci, candidato del centro-destra. Vediamo subito la grafica dei risultati ottenuti dai candidati sindaci e dalle liste. Luisa Russo 48,56%, Roberto Angelucci 29,63%, Livio Sarchese 7,58%, Franco Moroni 5,99%, Camillo Paolini 3,93%, Moreno Bernini 1,99%, Carmine Montebello 1,19%, Gianluca Baldassarre 1,13%. I dati rapidamente delle liste sono tante. Lista Antonio Luciani 14,15%, lista PD 12,38%, lista Insieme Siamo Francavilla 11,30%, Alleanza Democratica 7,04% e azione con Carlo Calenda 3,99%. Questo per quel che riguarda la coalizione della candidata russo. Per il centro-destra, Fratelli d'Italia 8,87%, Forza Italia 8,72%, lista Angelucci Sindaco 6,60%, Lega Salvini 5,06%, noi per Francavilla 2,09%, Abruzzo Indipendente 0,62%, le due liste di Sarchese, Movimento 5 Stelle 4,71% e Siamo Francavilla 1,94%, le tre liste di Moroni, Nuove Prospettive 2,42%, Francavilla nel cuore 2,17%, cambiamo con Toti 0,89%, la lista di Camillo Paolini, Aria Nuova 3,43%, la lista di Bernini uniti a sinistra, Civica Ambientalista 2,10%, la lista di Montebello, lista Etica 0,68%, la lista di Gianluca Baldassarre, la lista Gianluca Baldassarre Sindaco 0,84%. Ma su Francavilla abbiamo un collegamento in diretta con la nostra Marina Moretti che ha seguito fino a tarda ora quanto accadeva e stamattina è tornata sul luogo dove si sta per giocare il secondo tempo. Non del delitto. Sta cominciando il secondo tempo. Allora mettiamo la palla al centro e dirigi tu questo incontro. Abbiamo tutti e due i contendenti. Esattamente, abbiamo i due ballottanti che sono Luisa Russo, la mia sinistra, e Roberto Angiolucci, la mia destra, come hai detto, candidata per il centro-sinistra, cerchiamo di essere un po' chiari, anche se poi bisogna fare il distinguo, le liste, le civiche, eccetera, eccetera, però diciamo centro-sinistra e centro-destra per intenderci. E dunque la prima domanda concessa come atto di cavalleria da Roberto Angiolucci la faccio a Luisa Russo che poi però chiuderà anche, quindi insomma si ribalterà la situazione perché vorrei fare almeno un paio di domande. Intanto cominciamo dalla soddisfazione, evidentemente, per come è andata. È andata oltre le aspettative della stessa candidata Russo, si aspettava un 46-47%, è riuscita a portare a casa questo quasi 49%, anzi, in certi momenti sembrava quasi di poter festeggiare, già ieri sera qui vicino, nella sede elettorale. Ci ha creduto per un attimo? Sì, confesso di sì, c'è stato un momento in cui ci ho creduto perché eravamo vicinissimi al 50%, quindi la percentuale era sempre in aumento, ci ho creduto, ma sono soddisfattissima di questo risultato che è stato comunque straordinario e superiore alle aspettative. Quindi la città ha risposto molto bene, ha accettato la mia figura, la mia proposta e sono soddisfatta anche perché ho ricevuto 400 voti in più rispetto alle mie liste, quindi vuol dire che la candidata è piaciuta alla città. Domanda all'inverso anche a Roberto Angelucci, si aspettava di più di meno e quello che è poi arrivato è un punto di partenza, un punto di arrivo, si azzera tutto o riparte da qui? Io ho sempre detto in campagna elettorale che già sarebbe stato un successo, non era il ballottaggio. Il ballottaggio, appunto, parlavo sempre intorno al 30% e quindi diciamo che questo primo passaggio è andato secondo le previsioni. È un punto di partenza, noi ci siamo candidati per dare una mano a questa città nel post-covid e quindi rimane questo lo scopo, cercheremo di farci capire meglio e di più in questi 13 giorni che sono rimasti per arrivare al ballottaggio e le liste civiche si sono comportate bene, i partiti anche e quindi ripartiamo da quello che abbiamo ottenuto per cercare di crescere. Ci sono peraltro diciamo anche quote percentuali interessanti per gli altri candidati a sindaco interessanti da un punto di vista di ballottaggio, appunto bisognerà conquistare qualcuno, c'è per esempio un Moroni che si attesta intorno al 6%, c'è Camillo Paolini intorno al 4% poco meno, ma lo stesso Bernini, insomma c'è qualche cosa da andare a intercettare a livello di elettori naturalmente. Le faccio un'altra domanda, qualcuno dice che il successo è dovuto anche all'esperienza amministrativa di Antonio Luciani, quindi una continuità con quell'esperienza di governo, qualcun altro dice che avrebbe fatto addirittura meglio se non ci fosse stato Antonio Luciani? Allora io sicuramente voglio rappresentare la continuità di questa amministrazione che ha segnato il cambiamento di questa città, quindi vado fiera di averne fatto parte. Ovviamente sono caratterialmente diverse, la città ogni volta, ogni anno propone delle esigenze diverse e quindi mi adeguerò a ciò che chiederà la città e le affronterò con il mio modo di fare, con il mio metodo che sarà diverso da quello di Antonio Luciani. Per la città intende anche per esempio la lista di Paolini o altre? Allora noi abbiamo una forbice di 20 punti rispetto al nostro competitor, quindi siamo sereni, basterebbe portare a votare i nostri elettori e non dover chiedere a nessuno, ma sicuramente dialogherò con tutti, parleremo. Con Sarchese anche immagino? Anche con Sarchese, penso che i suoi elettori spontaneamente andranno verso la coalizione centrosinistra, ma comunque sentirò tutti e faremo il bene della città. Siamo allo stesso argomento, andrà a chiedere qualcosa anche per esempio appunto al Movimento 5 Stelle, a Sarchese, agli altri candidati? Ma il dialogo è stato sempre aperto dall'inizio, dalla formazione delle liste, da quando siamo partiti, perché ognuno ha cercato di fare l'aggregazione più ampia, quindi nei programmi sicuramente, nei dialoghi, nei buoni rapporti. Se ci sono state tante candidature, sono nate anche per un'opposizione a Luciani, alla figura di Luciani che è stato sempre molto, a testo sempre di spaccare la città a metà e quindi una buona parte non era contenta della città e là sono nate diciamo queste sette candidature alternative a Luisa Russo. Io mi auguro che questa città torni a ritrovare una sua tranquillità, non ci possiamo permettere di essere spaccati, dobbiamo fare capire le nostre ragioni dialogando civilmente e non usando più toni che non sono nostri, che non sono mai stati nostri. Io mi sono battuto in questa campagna elettorale per tenere i toni bassi e per non prendere in giro nessuno, quindi potevo conquistare qualche voto usando altri toni, ma io non intendo cambiare e così ho chiesto anche ai miei candidati di non cambiare per guadagnare un voto. Beh, l'abbraccio a cui ho assistito poco prima di questa diretta è un po' testimonianza anche di questa voglia di lavorare insieme pur dalle rispettive posizioni diverse. Direttore se hai domande? No, 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 spero che tu l'abbia registrato questo abbraccio perché comunque diventa una immagine di questa campagna elettorale. Chiudiamo con una stretta di mano, così questa ce l'abbiamo in diretta. Chiudiamo con una stretta di mano, visto che l'abbraccio è in diretta, o perlomeno, eccolo qua. Ecco qua, benissimo. Entrambi vaccinati, già lo sappiamo, quindi non c'è problema. Tutti vaccinati, tutti vaccinati e green passati. Grazie, grazie. Siamo d'accordo, politicamente siamo su due strade diverse, la città, il 50% ha votato per me, l'altro 50% per gli altri 7 candidati e volevo precisare che se sarò sindaco in consiglio porterò tra 10 consiglieri 5 donne, anche questo è un bel segnale per la città. Io vorrei aggiungere, visto che porto la soddisfazione di aver portato, comunque andranno le cose, un giovane, un giovanissimo in consiglio comunale per Paolo Paolini e insieme a un'altra donna e un altro uomo, giovani e futuro è loro, dobbiamo farli crescere. Bene. È tutto davvero allora da Franca Lina Valle. Ho appuntamento per entrambi, venerdì nei nostri studi alle 22 avremo già il faccia a faccia per il ballottaggio, quindi allenatevi per venerdì. Grazie, grazie Marina, buon lavoro.